Di Alfio penso che sia una persona di successo, un imprenditore che dice tante cose che molti pensano e che magari è scomodo ammettere. Una magnifica esperienza di confrontarsi con altri imprenditori, piccoli o grandi, e quindi di affrontare temi concreti e anche confrontarsi sulle soluzioni da individuare. La cosa bella di questa esperienza è che finalmente si parla di cose concrete e di come risolvere situazioni difficili, che ci sono sempre, magari un pochino di più in questi anni. Il corso è molto interessante, i docenti sono disponibili, andrebbero fatti i corsi così a tutti, magari fin dagli anni delle scuole. Sarebbe una cosa utile, avremo gente migliore attorno a noi.